Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un breve video haul di Primark. Ieri infatti siamo stati da Primark per prendere alcune cose per mio marito e quindi ne ho approfittato per prendere qualcosina. Niente di che però volevo farvelo vedere. Partiamo con i pantaloni per Francesco. Questi sono dei semplicissimi pantaloni della tuta, 3-4 anni perché Francesco comunque è molto piccolino. Questi veramente costavano pochissimo, mi sembra 4 euro se non sbaglio. Sono dei semplici pantaloni della linea basic di Primark, quindi un po' felpati e li ha voluti rossi. Sempre della stessa linea e sempre per Francesco, pantaloni della tuta grigi. Li cercavamo anche blu ma purtroppo non c'erano, sempre taglia 3-4. Poi mio marito era voluto tornare da Primark proprio per prendere queste magliette basic a maniche corte. Lui le ha prese nella taglia XL perché le usa più che altro per stare dentro casa. 4,50 euro e sono veramente ben fatte. Di un cotone leggero ma non troppo. Ci sono anche dei bei colori. Hanno un'ottima riuscita in lavatrice, quindi assolutamente consigliate. E infatti ne ha prese una valanga. Praticamente la maggior parte dello shopping era il suo. L'ha preso di questo grigio scuro che qui risulta un pochino più chiaro ma in realtà comunque è un grigio scuro. Poi l'ha presa blu, di nuovo grigia, grigio chiaro e di nuovo blu. Sempre mio marito ha voluto provare gli asciugamani di Primark. Ha voluto prendere questi piccolini. Non so per farci bene cosa, insomma diciamo per la faccia eccetera. Sono belli eh. Devo dire che la spugna è molto molto morbida e abbastanza spessa quindi non sono proprio quelli sottili. Magari in futuro prenderò, proverò anche quelli eh grandi appunto per le mani. Questi sono 30 per 30 e 100 per 100 cotone. Costavano 3 euro. L'abbiamo presi di questo top e di questo blu verde. Poi ha voluto provare sempre di questo bel blu i guanti. I guanti appunto per lavarsi e sono carini. Sono fatti in questa maniera. Sono belli grandi. Ci entra comodamente anche una mano più grande della mia ovviamente e si possano appendere. Anche questi 3 euro. Poi queste le ha volute soprattutto mia figlia. Abbiamo preso queste tea towels della linea appunto della Disney, dei Munchlings. Non mi ricordo come si chiamano. Sono quei peluciotti cicciottelli che hanno forma di dolcetto eccetera. E queste dovrebbero essere entrambe di mini. Adesso le apriamo e vediamo come sono fatte. Una è tutta rosa con questo mini cupcake a forma di mini da una parte e l'altra invece sul bianco con il cupcake molto più grande e poi dei disegnini sempre sul rosa. Sono molto molto carine e fini. Della linea di Barbie invece ho preso due guanti esfolianti che sono veramente carini. Sempre c'è la schitta Barbie e sono esfolianti ma non troppo. Ecco mi servivano più che altro sotto la doccia. Magari adesso che perdo un po' di abbronzatura rimangono un po' di pellicine eccetera. Diciamo che è pelle da serpente, io ve lo definisco. E quindi speravo che queste mi potessero aiutare. Sono 3 euro due guantini. Dato che in casa nostra i cavi spariscono sempre, non si sa perché, sono andata appunto nel reparto di Primark dedicato ai cavetti e ho voluto prendere questo che è un 2 in 1 ed è sia appunto un cavo lightning che un USB-C. Quindi in questo modo me lo nascondo, ovviamente l'ho preso rosa e non lo faccio toccare a nessuno perché altrimenti qua non riesco mai a ricaricare i miei dispositivi. Questi sono veramente basic però mi servivano in doccia in quanto ho preso delle confezioni più grandi di shampoo e balsamo, ma sono scomode da tenere in doccia e quindi volevo diciamo metterle in queste confezioni da viaggio che sono comunque morbide e pratiche da premere, non sono dure e quindi le tengo poi sotto la doccia e posso utilizzarle. Queste sono utili anche in viaggio naturalmente ma non è lo scopo per cui l'ho presa. Infine l'ultimo prodotto che abbiamo preso, l'abbiamo preso per mia figlia che adesso ovviamente si trucca, ha quasi 15 anni, però è attenta all'ecologia eccetera e quindi voleva smettere di utilizzare quelli di cotone, vede me che mi strucco comunque con i panni microfibra, però per lei erano più comodi questi dischetti. Io ne avevo uno in passato e glielo ho fatto provare, quindi li abbiamo trovati questi da Primark 10 a 2,50 euro e l'ha già utilizzati, sono veramente oltre che carini perché comunque hanno dei bei colori, sono ben fatti. Ce ne sono di due tipi, alcuni sono più spessi, questi sono abbastanza sottili, sono molto maneggevoli, morbidissimi, struccano bene e quindi super approvati. Quindi questo era il nostro ultimo shopping da Primark e anche se era veramente molto pieno, questa volta sono riuscita a trovare un reparto home più fornito, era pieno di candele eccetera, ovviamente non mi serviva granché quindi non ci siamo soffermati più di tanto, ma questa volta finalmente era ben fornito e sono contenta di questo perché sì, i vestiti vanno bene per carità, però a me piaceva più che altro il reparto home. Fatemi sapere che cosa prendete voi abitualmente da Primark, datemi consigli perché noi ci andiamo poco in quanto è un pochino lontano, però mi piacerebbe sapere che cosa è indispensabile per voi prendere in questo negozio. E poi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!